Ho desiderato attentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico che non la mangerò più finché non si compia niente di Dio. Prendete bene tutti, poiché vi dico che non verrò più del frutto della vita finché non venga niente di Dio. Grazie a tutti. Questo è il mio corpo, prendete e mangiate nei minuti. Giuda, quello che devi fare è farlo subito. Signore, io per te sono pronto ad andare in prigione e alla morte. Pietro, non cascerai il caldo due volte prima che tu per tre volte ne abbia rinnegato. Voi restate qui a pregare per non entrare in tentazione. Perché dormite? Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Ma per te sono andate? No. 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 Grazie a tutti. Anche tu eri con lui, ti riconosco. Non so di chi parli. Sì, sì, eri tu. Ho detto che non lo conosco. Sì, eri tu, anche tu sei uno dei Galilei. Ti riconosco. Non so quello che dici. Non so quello che dici. Sentite, portatelo via e giudicatelo poi, come prescrive la vostra di legge. Eh no, a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Ma che male ha fatto? Dice di essere un re, mandato da Dio. Quindi, tu sei un re? Tu lo dici. Io sono un re. Tu lo sai che io ho il potere di farti morire o il potere di liberarti? Facerdoti, io ora lo farò frustare e dopo lo rilascerò. Dopo, portami in barappa. Tu sei un re, mandato da Dio. Tu sei un re, mandato da Dio. Tu sei un re, mandato da Dio. Salve, salve re! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! Salve, 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 salve! 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 Salve, salve, salve! Salve, salve, salve!